Ad un certo punto i bacchi sono pronti per fare quella che viene chiamata la salita al bosco, che consiste nell'andare a cercare un posto sicuro in cui fare il bozzolo per poi trasformarsi in crisalide. In questo video vedremo la salita al bosco e l'inizio della costruzione del bozzolo. Grazie a tutti. I bacchi impiegano 2-3 giorni per costruire il bozzolo. In questo bozzolo ci sono due bacchi che lo stanno costruendo, uno è sotto e uno è sopra.